Altra prova convincente di Trento che batte per 3-0 Piacenza alla BLM Grupparena nell'ultima partita di questo 2020. Poi ce ne sono altre due ma in trasferta. Dicevamo della settima vittoria consecutiva per gli uomini di Angelo Lorenzetti. Il mister deve ancora fare a meno di Dick Coy alle prese con un problema agli addominali. La sua squadra risponde comunque presente. Pensate che l'attacco gira al 70% di squadra con punte dell'89 per l'Isinaz, 83 per Marco Podrashan in 75% per Nimir Abdelaziz. Ancora una volta scelto quale migliore in campo. 3-0 con parziali al 16, al 21, al 17 con Piacenza che non riesce mai a rispondere agli attacchi della formazione di casa. Bravissima anche per quanto riguarda la fase di ricezione. Qui una menzione va per il solito Alessandro Micheletto. Il prossimo appuntamento è in trasferta in quel di Modena il 27 di dicembre. Ma ora andiamo a sentire le interviste raccolte al termine del match con mister Lorenzetti e con Simone Giannelli. L'intensità è stata quella giusta. Era importante per noi perché adesso abbiamo tre trasferte consecutive. Sappiamo che in Superliga le trasferte non sono mai facili. E quindi oggi dovevamo fare la partita in questo modo qua. Poi ci è andato abbastanza bene tutto. Cominciare dalla battuta, dalla qualità del primo servizio. E questo ha reso un pochettino più facile il compito di tutto il resto. Ci aspettavamo una partita veramente tosta e difficile. Siamo stati bravi subito a interpretare bene la battuta e la ricezione. E poi quello ci ha aiutato per avere un gioco fluido.